La riserva d'Annunziana è un patrimonio della città che deve essere difeso con i criteri scientifici della difesa di una riserva. La riserva d'Annunziana di Pescara continua a essere danneggiata da chi deve gestirla. Così le associazioni del coordinamento Salviamo gli Alberi di Pescara dopo che il 20 gennaio scorso sono stati abbattuti alto i treppini nella zona del cantiere di Via Pantini. Nell'agosto scorso abbiamo tutti vissuto il dramma dell'incendio ma già precedentemente c'erano stati dei tagli di pini secondo noi immotivati per la realizzazione di questa nuova strada. Ora dopo l'incendio vedere che ancora si tagliano alberi sani addirittura a fianco a quelli bruciati è paradossale. La regione Abruzzo nel novembre 2021 ha approvato un emendamento per cui è prevista una sanatoria relativa agli interventi di trasformazione del bosco eseguiti da parte di enti pubblici e che finora hanno impedito ulteriori tagli di alberi. Ora c'è una coincidenza francamente sospetta fra l'inizio di una nuova campagna di tagli e questa attività legislativa diciamo finalizzata a consentire quello che non era consentito. C'è fiducia per il futuro dicono dall'associazione ma tra le priorità ora ci deve essere l'istituzione di una direzione scientifica della riserva. È chiaro che si tratta di un progetto che va rivisto anche alla luce della salvaguardia della pineta che deve essere messa tra le priorità di questa amministrazione. Esiste un comitato di esperti che loro hanno chiamato che ha fatto un documento che noi in gran parte condividiamo. Bene, si proceda alla istituzione della direzione scientifica della riserva perché soltanto un organismo scientifico può decidere cosa fare e cosa non fare per la rinascita della nostra riserva. Vedere invece che sulla base del progetto di un geometro, di un ingegnere che sta facendo una strada si decide se un albero deve stare su o no, insomma ci sembra paradossale.